I problemi di natura psichiatrica più comuni, la depressione, certamente con l'età avanzata sappiamo la demenza, quindi l'aumento dei deficit cognitivi, sopra i 65 anni abbiamo un incremento notevole dei pazienti con deficit cognitivi e con demenza. Naturalmente anche la depressione, ma anche altre forme psichiatriche, da quelle che possono essere le vere e proprie psicosi, schizofrenie e quant'altro. Trotturiamo tutte le patologie. Il problema che abbiamo è che una medicina di opportunità, cioè una medicina che aspetti il paziente nel proprio ambulatorio, non arriva mai in tempo, arriva sempre con ritardo, quindi sempre quando siamo nelle fasi avanzate della malattia. Molto spesso nemmeno in famiglia riescono ad accorgersi di qualche cosa che sta cambiando nel proprio congiunto. Quindi sarebbe necessario fare una medicina di iniziativa, quindi trovare dei mezzi, degli strumenti per anticipare o per prenderlo nelle forme iniziali, vari tipi di malattie. Potremmo per esempio utilizzare, abbiamo fatto per esempio uno studio anche nella regione Calabria, utilizzando un questionario per rilevare un attimino quelli che potevano essere i deficit cognitivi e disturbi del comportamento nei nostri pazienti anziani sopra i 65 anni. Facendo mille di questi questionari abbiamo notato per esempio che quasi la metà, più della metà, c'erano deficit cognitivi anche importanti, per cui li abbiamo inviati poi all'unità di valutazione Alzheimer per fare una diagnosi di probabilità o di certezza. Qual è il problema? Qual è la criticità? La criticità è che la medicina generale può essere pronta. Quando si muove la medicina generale si muove come un gara armato, specialmente nel fare gli screening. Il problema che poi si manifesta è quel fenomeno cosiddetto ad imbuto, cioè tutti i pazienti noi mandiamo poi nei centri e i centri non sono pronti a fare la diagnosi e ad accogliere tutti questi pazienti, per cui molto spesso le visite sono prolungate, sono nel tempo, quindi ci vogliono 7, 8 mesi o 1 anno per fare una visita. Quindi capisce bene che questa attesa per avere la vista la prima diagnosi eccetera e quindi cominciare la terapia non è accettabile, specialmente in pazienti che hanno questo particolare tipo. di patologia. I pazienti più a rischio sono quelli che vivono un po' da sole, ma tutti quelli che hanno per esempio già fattori di rischio cardiovascolari. I fattori di rischio cardiovascolari sono associati ad un incremento per esempio dei disturbi dei deficit cognitivi, un incremento delle demenze, così come la depressione eccetera, gli affetti, i problemi cronici in generale, molto spesso la depressione è reattiva e secondaria ad una patologia cronica. Quindi proprio le patologie croniche di per sé sportano a questi disturbi del tono, dell'umore o dell'affettività e anche del comportamento. Depressione, deficit cognitivi eccetera, sono tra le cause principali di non aderenza alla terapia. Questi pazienti non possono essere lasciati soli. È chiaro che hanno bisogno di caregiver, c'è di qualcuno che li assista, che possono essere familiari, ma oltre ai familiari direi anche di un'assistenza di tipo specializzata, quindi un caregiver specializzato, non buono per ogni cosa all'uso, diciamo, e per ogni uso. E che ci sia un continuo contatto con il medico di famiglia, che deve diventare il coordinatore di questa rete di assistenza che va costruita in donne a pazienti fragili, dove interviene. Il medico di famiglia coordina, ma c'è naturalmente lo specialista, c'è l'inverniere professionale, c'è il psicoterapeuta, ci sono altre figure professionali che possono e devono intervenire insieme, quindi questo approccio multiprofessionale dovrebbe dare più garanzie. Sulla aderenza è importante anche l'apporto che può dare non so, anche il farmacista per esempio, ma sicuramente il familiare caregiver insieme al medico di famiglia.